Tutti conosciamo il nigno e gli effetti devastanti che ha sul clima. Non sempre però questo fenomeno atmosferico è sinonimo di devastazioni. Nel deserto di Atacama in Cile, una delle regioni più aride del pianeta, proprio grazie al nigno, ora è sbocciata una distesa infinita di fiori, una magia di profumi e colori. E' straordinario, dice questa turista, uno scenario unico nel suo genere, davvero emozionante, qualcosa di meraviglioso da ammirare. Questo spettacolo della natura è noto come il deserto fiorito, succede ogni 5-7 anni. Se avete in programma una vacanza in Cile, non possiamo che consigliarvi di organizzare un'escursione.